Sono rimasto invalido sul lavoro a seguito di un gravissimo infortunio occorso nel 2010. Ero un fabbro e purtroppo sono rimasto folgorato da una scarica elettrica da 220 volt. Dopo 37 interventi chirurgici mi hanno dovuto amputare il braccio destro e ho dovuto installare un pacemaker cardiaco. Da questo incidente è nata una vera e propria missione di vita. Ringrazio di cuore FPT Industrial per la sensibilità mostrata verso un tema così importante perché la sicurezza sul lavoro è una cosa che si fa in squadra. Uniti si vince!